buongiorno signori stamattina mi sono svegliato con lo pallino di farmi un zabbaglione veramente internazionale cosa ci vogliono innanzitutto ci vogliono due uova che siano fresche di giornata due uova ci vediamo dopo allora innanzitutto dividiamo il bianco dal rosso così togliamo il l'albume perché a noi ci serve il rosso ok a dopo dopo che abbiamo messo due tolle di rosso ci mettiamo 1 2 e 3 cucchiaini di zucchero ok e adesso inizia la cosa ci mettiamo pure un bicchierino di marsala perché diciamo non lo voglio fare troppo carico di liquore ok mezzo bicchierino di marsala poi cominciamo a miscelare il tutto nel frattempo accesso un fornellino lo mettiamo in temperatura media così è non troppo forte perché no perché io lo faccio direttamente qui e lo mettiamo sopra il fornello per i primi secondi così ad hoc ok poi dobbiamo toglierla dal fuoco e tenere un pochettino vedete sollevato così la nostra pentola in modo in modo che non si bruciano le uova avete capito si deve cuocere così bene appena arriverà alla consistenza desiderata in questa in questa modo non mettetelo più a contatto con il fuoco e se non bruciate tutto appena arriva la consistenza che dico io ci vediamo è guardate ragazzi che bella schiumetta che sta facendo vuol dire che ci siamo a buon punto ragazzi vedete tenete così guardate guardate che bella è un'emozione è un'emozione da poco bene ragazzi adesso preparate una bella ciotolina perché il nostro il nostro labaione è pronto e voilà ci vediamo per la prova dell'assaggio ragazzi grazie 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 grazie